Bustese e Oltrepo si sono trovate di fronte al battaglia nella ventesima giornata del Gironia di eccellenza. Bustese nei consueti colori Granata, Oltrepo in bianco. Oltrepo in campo con Mantovani, Porta, Mauri, Airolai, Moltini, Balestra, Celori, Sciannameo, Buscaglia, Scagnetti, Meda, Daniello. Per la Bustese in campo più Iuri, Calizzi, Lombardi, Meriggi, Perfetti, Zambarbieri, Scavo, Cattelan, Durante, Bergamaschi, Gibellini. Ospiti praticamente in vantaggio alla prima azione con Moltini. Sono passati sette minuti di gioco. La parte centrale del primo tempo scorre via senza particolari emozioni. Impegnati i portieri. Al trentottesimo su azione d'angolo arriva il raddoppio di Balestra. Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione Granata che praticamente non arriva. Raramente infatti la squadra di Garavaglia impensierisce Mantovani. Uno scossone che dovrà obbligatoriamente arrivare fin dal prossimo impegno casalingo in programma mercoledì alle 15.30 con la provvigevano su Ardese.